carissimi fratelli e sorelle amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio ci benedica insieme questo 5 di agosto sono le 7 del mattino vi invito ad aprire la bibbia insieme a me a leggere nel libro dei giudici al capitolo 5 al verso 31 è scritto così periscano tutti i tuoi nemici o signore coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza così conclude il verso il paese ebbe pace per 40 anni una delle espressioni sicuramente più belle con cui vengono definiti i credenti è quella riportata in questo verso che sono poi le parole conclusive del cantico di debora e cioè quelli che amano il signore i credenti infatti nel realizzare la grazia non ha semplicemente accettato una ideologia in modo intellettuale ma si è lasciato coinvolgere in tutto il proprio essere quindi ha anche dei sentimenti nei confronti di colui che lo ha salvato e questi sentimenti sono proprio quelli di amore questo amore che discende dal fatto che dio ci ha amati per primo questo amore che viene sparso nei nostri cuori mediante lo spirito santo questo amore che ci spinge inevitabilmente a odiare tutto ciò che dio odia e ad amare ricercare tutto ciò che dio ci insegna essere secondo la sua volontà infatti la parola del signore e qui mi riferisco a quando è scritto in prima giovanni afferma che questo è l'amore di dio e cioè che osserviamo i suoi comandamenti e allora ricordiamoci possiamo dire di essere dei veri credenti e di amare veramente il signore quando ci sforziamo di fare la sua volontà se da un lato è vero che nessuno di noi è perfetto perché tutti pecchiamo è altrettanto vero che dall'altro lato il credente si distingue in quanto si sforza di onorare il signore e ogni qual volta compie il male si pente quindi si duole di aver offeso la santità di dio chiede perdono si ravvede e ricomincia il suo percorso che è finalizzato ad assomigliare sempre di più a cristo gesù il suo amato salvatore quest'amore ci porta ad essere come abbiamo letto come il sole quando si alza in tutta la sua forza e questo richiama innanzitutto due elementi la luce e il calore perché questi sono poi ciò che contraddistinguono principalmente il sole la luce ci parla di testimonianza che è qualcosa che noi dobbiamo irradiare in questo mondo gesù ce lo ha detto sono parole note voi siete la luce di questo mondo e solo quando noi amiamo il signore possiamo veramente essere luce di questo mondo perché appunto siamo come il sole il sole si caratterizza per illuminare il nostro pianeta quindi ciò che ci può spingere a rinunciare al peccato ciò che ci può spingere a fare la volontà di dio è l'amore che noi abbiamo verso il signore non a caso nell'epistola che viene scritta alla chiesa di efeso da parte del signore nel libro dell'apocalisse egli rimprovera quella chiesa proprio per aver dimenticato il primo amore perché si possono fare tante cose si può essere impegnati in mille modi e mille manieri ma se non c'è l'amore tutto quello che si fa non serve a nulla l'apostolo paolo infatti dirà che noi possiamo darci anche ad esserearsi noi possiamo dare tutti i nostri beni noi possiamo parlare le lingue degli angeli degli uomini ma se non abbiamo amore tutto questo non serve a nulla dio ci aiuti quindi ad essere dei credenti che amano dio e allora saremo veramente dei credenti la seconda cosa che caratterizza il sole è il calore e questo ci parla di un amore che deve essere reale pratico e che deve raggiungere coloro che ancora vivono nel freddo di questo mondo e nel freddo del peccato delle tenebre e questo quindi ci spinge a mostrare verso gli altri non sentimenti di giudizio ma di misericordia di compassione certo dobbiamo evidenziare il peccato che viene compiuto perché le persone si devono allontanare da esse da esso scusate ma questo non ci deve spingere ad essere giudici degli altri perché solo giudice è il signore dio ci aiuti quindi a predicare il vangelo certamente con franchezza certamente con schiettezza ma anche usando le parole con cui il signore si avvicinava a quanti si trovavano lontane da lui vi ricorderete ad esempio come gesù seppe parlare al cuore in modo caloroso alla donna che si avvicinò a lui al pozzo di giacobbe nel vangelo di giovanni capitolo 4 ricorderete come gli seppe parlare al cuore in modo affettuoso di quella donna colta in fragranza di peccato che tutti volevano la pedare ma che lui conoscendo il cuore il desiderio di quella donna di abbandonare quella vita peccaminosa ma che lui appunto non condannò ma anzi riabilitò dicendole nessuno ti giudica neanche io ti giudico va e non peccare più e allora ricordando queste brevi riflessioni vogliamo in questo nuovo giorno chiedere al signore di aiutarci ad amarlo sempre di più e ad essere luce di questo mondo e a saper mostrare un amore pratico sincero reale verso tutti coloro che sono intorno a noi allora saremo forti nelle vie della grazia nelle vie della fede e la nostra testimonianza sarà una testimonianza efficace perché proverrà non dal desiderio di fare proselitismo ma proprio dal desiderio di poter presentare il vangelo di cristo che ancora oggi è potenza di dio per la salvezza di chiunque crede il nostro desiderio non è infatti quello che altri si aggiungono alla nostra denominazione religiosa ma che altri possono ravvedersi dai loro peccati confessarli e accettare cristo nella loro vita per poter essere salvati e se tu sei tra coloro che ancora non hanno cristo stamattina ti voglio invitare con tutto il mio cuore abbandona il peccato rivolgiti a dio chiedi perdono pentiti ravvediti e anche tu comincerai ad essere come il sole che si elge in tutta la sua forza comincerai ad essere una nuova creatura comincerai ad essere luce di questo mondo comincerai a sentire il calore di dio e a mostrarlo anche verso coloro che ti sono intorno che la grazia la pace l'amore la presenza del signore sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme